Tonino Pinto, un'icona del cinema italiano. L'icona? Sei parlato di santo. Eh sì, lo sei perché sei una persona affabile, disponibile. Ma quello che ha detto questo bellissimo ragazzo che mi sta dipendendo non è vero, sono soltanto un buon campano che vive a Roma, ma che è innamorato pazzo della costiera amalfitana della sua Napoli. A proposito, forza Napoli ragazzi, mi raccomando. Allora, il Cilento devi venirlo a visitare, magari ho benedetto gli amici prossimamente, sarai ospite nel mio B&B. No, 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 oltre a occuparmi di cinema e di cinema per ragazzi, perché io faccio didattica e cortometraggi nelle scuole. Ah, e allora facciamoci una bella cosa l'estate prossima, dedicata al cinema. Sì. Una serie di miei documentari ti vanno bene? Assolutamente. Quanti ne hai fatto? Va bene una trentina, 30, 40. E devo dire la verità, questa cosa mi fa piacere farla perché ci sono delle chicche che vanno anche spiegate ai ragazzi perché. Perché, come posso dirti, per quale cavolo di motivo io per vent'anni sono andato a seguire il festival latinoamericano di Cuba. Io che tutto sommato non avevo nulla che spartì con le sinistre cubane, lo dico con affetto. Fino a quando però, un giorno, un grande giornalista amico mio che si chiamava Gianni Minà, vedendo i miei reportage e sapendo che io parlavo molto bene lo spagnolo perché lo spagnolo io l'ho imparato lavorando, aprendo un ristorante a Cartagena de Zingas. Ci lo sta. Cartagena de Zingas sta in Colombia. Cioè tu nonostante lavorassi tanto per il cinema, sei impegnato a volare avanti. Sì, non ero ancora entrato in Rai, quindi facevo gli uffici stampa, mi curavo di pubbliche relazioni, scrivevo articoli però. E ero andato a Cartagena, in questa città del 1500 spagnolo, oggi patrimonio dell'UNESCO, è la città di García Márquez, mio grande amico. Il grande amico. La Kemada era un film storico ambientato in costume, ambientato nella Cartagena de Gassia Márquez, che ricorda proprio la Macondo di cent'anni di solitudine, con Marlo Brando. Questa produzione italiana voleva mettere in evidenza il coraggio di un popolo cartaghenero, che conquista la sua indipendenza dalla Spagna. C'è stato un periodo di conquistadores, tutto in Latino America, e poi c'è stato un lungo periodo di rivalutazione e di libertà dai conquistadores e dell'indipendenza dai conquistadores. Ancora oggi ci sono delle colonie portoghesi, per esempio, che rischiano di finire, perché l'indipendenza oramai la danno tutti, anche in Africa. Quindi di conseguenza i paesi sono tornati ad essere padroni dei loro territori. Guarda Hong Kong, che era degli inglesi e che è tornata ad essere cinese. Ebbene, in quella circostanza, a Cartagena, girarono questo film, ma non è tornato più nessuno indietro. Cioè, è tornato Marlo Brando, Renato Salvatore, Giro Ponte Corvo, qualche altro, gli altri sono rimasti tutti. Questa storia io l'ho appresa mentre giravo un film in Ghana, in Africa, con Enrico Maria Salerno, si chiamava Contact. E il fotografo di scena, sai che a ogni film c'è un fotografo di scena, Divo Cavicchiori, personaggio incredibile, molto caro a Federico Fellini, aveva fatto la chebata di Ponte Corvo a Cartagena. E quando ci siamo salutati, ed era anche il fotografo di scena del film Contact, ha detto, ah no, io non vengo più a Roma, perché Roma è una città dispersiva, oramai sono diventati tutti quanti politicizzati. aveva fotografato bene, era così. Aveva visto anche avanti. E allora se dice, io me ne torno a Cartagena, ha detto, ma che ci sta a Cartagena? Ha detto, io a Cartagena abbiamo fatto questo, questo, questo. E poi non è tornato più niente nessuno. Sono tornati. Cioè la Sartre, il truccatore. No, ci sono inventati tutti, d'altro messaggio, e vivono nell'isola che non c'è. L'isola di fantasia, la Cartagena di allora era così. Bella storia, no? Torno a Roma, la propongo al direttore di un importante quotidiano, che non cito per non fare pubblicità, il quale mi dice, parti, vai a fare sta, raccontami sta storia. Io ritorno, quindi, c'erano i telefonini, non avevo il telefono di questi, parto alla cieca. Per Bogotà, da Bogotà prendo un aereo la mattina presto per Cartagena, arrivo a Cartagena, dove non ero mai stato. Era un piccolo aeroporto, oggi è un aeroporto internazionale, oggi città dell'UNESCO. E trovo un tassista, con un tassi tutto scangherato, legato con una corda, con un sombrero. Donde vamos, signor? Stai buscando un'ombra italiana? Divo, come no, l'ambagata d'Italia! Come l'ambagata? No, è strante! E partiamo. Nel partire con questa cazzo di massa, con la musica, questo mi parlava sempre, diceva, mira dottor, questa è la mura antica di Cartagena, Cartagena è la città dello spagnolo. E mi racconta che era un deposito di oro, a depoche degli spagnoli, che fregavano dal Perù, lo mettevano in questo forte che esiste ancora oggi, esiste anche un mio documentario, il forte di San Felipe, dove caricavano tutto questo oro. E poi in questa baia grande, ecco perché avevano scelto gli spagnoli Cartagena quando sono arrivati a sbarcare per la prima volta, perché aveva una baia grande e una baia piccola. Logisticamente funzionale. Se è grande, ha capito a volo. Ci hanno messo le catene, i pirati che allora erano al soldo della regina inglese, gli volevano far capire loro l'oro. L'oro, l'oro. L'oro, l'oro. Non potevano rompergli le palle. E così nasce architettonicamente questa città meravigliosa che oggi è così com'è. Abbiamo fatto lo sport turistico, ma sono contento di farlo perché lo merita. Ma è anche la città di García Márquez, perché García Márquez, da ragazzino, da giovane come te, andò a scrivere i primi articoli per un giornale, l'unico quotidiano di Cartagena che esiste ancora oggi, dei spettatori. e da lì i due dormivano in tipografia, facevano una lira. Schisse quei capolavori che poi gli hanno consentito di vincere un premio Nobel. Parliamo di te però. Ah, vuoi parli di me? Sì, perché... Ah no, non te ne frega niente dei frutti di Venezia. No, io voglio conoscere meglio e far conoscere ai giovani la tua persona. Innanzitutto tu ti sei contraddistinto, diciamolo bene, da quella grande voce che hai, profonda, e che arriva davvero in modo diretto ai telespettatori. Te lo posso dire. Penso che te l'abbiano detto in tanti. Senti, io ho... Quando arrivava la voce in televisione di Tonino Pinto arrivava il cinema e ti entrava tutta la storia dall'inizio alla fine. Non perdevi assolutamente un passaggio. Vabbè, carino, molto carino. No, no, io sono assolutamente cresciuto con la tua voce. A piacere, anche tu eri una bella voce. Ti ringrazio. E poi ti ho conosciuto al Giffoni, quando ormai la tua carriera era già assolutamente... Quest'anno a Giffoni mi hanno dato una bella targa e hanno ripercorso tutti i 40 anni i miei di Giffoni. Io sono cittadino onorario. La cittadinanza onoraria me l'hanno data qualche anno fa. E ce l'ha soltanto Giorgio Napolitano e Robert De Niro. E io. Ma tu hai contribuito alla crescita di Giffoni. Ho contribuito moltissimo. Assolutamente sì. Ma lo riconoscono anche loro. È vero. La mia gioia è stata quella di avere condotto anche le famose conferenze stampa che non erano più delle conferenze stampa perché io ho scoperto, così come l'hanno scoperto i grandi registi come Truffò e come tantissimi altri che sono venuti a Giffoni e se non c'era bisognava inventarlo. Quindi il merito di Claudio Guvitosi che è stato l'autore e l'inventore di Giffoni è davvero straordinario. Hai cominciato, hai detto, più di 60 anni fa. Al Festival di Venezia? No, no, nel mondo del cinema. 60 anni fa, forse anche di più. Qual è il primo pezzo che hai scritto per il cinema? Per il cinema ho fatto una cosa particolare. Un grande direttore di un magazine che si chiama Sorrisi e Canzoni, allora era Gigi Vesigna. se tu parli con un qualsiasi cantante ti dice chi è Gigi Vesigna, un eroe del giornalismo, di quel tipo di giornalismo, per quel tipo di magazine. Io collaboravo con quel giornale. Un giorno vado a fare una vacanza, invitato però da dei miei amici molto ricchi, a Porto Rotondo, e me ne sono andato in giro per i cavolacci miei, sono capitato a Palau per mangiare il pesce con i pescatori lì nel porto e mi hanno raccontato una storia che sembra un film, sembrava, quella di un carcerato, il gastolano, condannato perché aveva abbazzato, faceva l'autista di un camion, ubriaco, una persona, il presidente Saragat lo graziò dopo 20 anni di carcere alla Maddalena e lui uscì dalla Maddalena e andò a Palau, non sapeva dove andare, non aveva famiglia. Lo hanno adottato i pescatori di Palau. Ci vede il dottore e dice però adesso è successa una cosa straordinaria, finalmente gli abbiamo trovato un posto perché un miliardario di Milano ha comprato la famosa isola di Budelli che oggi è tornata ad essere del comune, ma allora, stiamo parlando del 70, era privata, la comprò questo miliardario. il quale aveva bisogno di un custode e allora i pescatori di Palau gli dissero prenditi Sergio che è bravissimo. Sergio non era chiatilla, era bello Robert. Chiatill. Bravo. Tu sì che sei. Hai portato anche caffè? Sì, un altro. È un caffè a me? Io sono l'acqua. Ah, no, intanto prendo. No, lui lo sa, io voglio la sabbure. vedevo. Allora, io mi avevo così, io poi devo scappare. Grazie. Guardate, adesso io. Insomma, per fartela breve, per fartela breve, Sergio era contento di avere avuto questo posto da guardiano dall'isola di Budelli. la famosa isola rosa adesso è patrimonio nazionale, anzi patrimonio dell'UNESCO addirittura, ma allora lui la proteggeva dai turisti perché è un angolo di paradiso assoluto. Tutto spostato verso la Corsica. È il punto più avanzato dell'Italia da quella parte lì, verso la Corsica. Tanto che i carabinieri gli hanno dato, Sergio allora, gli diedero un telefono satellitare perché poteva, c'era qualcosa che non andava, traffici strani, gli avvisava, stava solo su un paliso. Qual era il desiderio di Sergio e dei pescatori? Dottore, perché non ci aiuta? Lo vuole conoscere? Perché lui sta cercando moglie? A me, come mi hanno detto cercando moglie, ho detto a un film. Chiamo Gesigna a Milano e dico senti Gigi, ti racconto una storia così, 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 sì. parti subito! Mi ha mandato un fotoreporter da Milano e io vado. Intervisto Sergio che si era costruito una casetta con le conchiglie, c'era un asino, due galline, ma senza. E poi custodiva, ha fatto le fine portaceneri di bambù per non sporcare quando arrivavano i turisti. E poi cercava moglie. facciamo un articolo che lui cerca voglie. Facciamo un annuncio con le fotografie che lui vestito da pirata con tutte le collane, le cose, la scivitarra falsa, c'era un barchino che andava a pescare. E' certamente bravo che tutti gli yacht dei grandi ricchi, Agnelli, Piaggio, che d'estate stavano in Sardegna, sapevano che lì si potevano buttare l'ancora davanti perché non c'è posto all'isola di modelli. E lui veniva col barchino e li prendeva e lui gli faceva il pesce arrosto fresco, Naturalmente gli lasciavano fior fiori di quattrivi. E quindi era anche ricco tutto sommato. Però chi ci andava ad abitare con questo? Noi facciamo questo articolo, io feci questo articolo, sette pagine e trovammo la moglie, una vedova di Palermo, vuole essere innamorata di lui vedendo le foto e se l'è sposato. Quindi poi immagino il matrimonio. Cosa ricorda questo? Questo è stato l'inizio di una voglia matta di scrivere che io già lo facevo con il mattino di Napoli, già scrivevo parecchi articoli, però questo è stato proprio l'inizio che mi ha convinto anche ad usare la penna per raccontare le mie fantasie non solo, ma anche il mio modo di vedere e di commentare. Per cui tanto è vero che in questi 35 anni di televisione fatta con tutti e cinque i telegiornali della Rai perché avevo un contratto speciale Tg1, Tg2, Tg3, Tg3 regionale, Rete1, Rete2, Rete3 e facevo cinema come cavolo cinema ma non solo ma anche sociale per cui i miei documentari spaziano dai che ti devo dire l'ultimo documentario che ho fatto sul Brasile e ne ho fatti tanti uno era l'avvento di Lula come Presidente della Repubblica il primo mandato quindi io scorrazzai tutto il Brasile da nord a sud da est a ovest che è un continente per capire qual era il Brasile che ereditava quando fu eletto la prima volta adesso ne ho fatto un altro per i 50 anni della Bossa Nova e i 100 anni del Samba cioè un percorso musicale attraverso il Brasile voi non si ha idea se uno non è un appassionato di musica non riesce a capire che cosa sto dicendo quando si parla di musica brasiliana si parla di un continente che è grande e 100 volte l'Italia e che ha una divisione per zona di musica che ti devo dire nel nord est c'è il Forro poi c'è il Samba e la Bossa Nova poi c'è ognuno ogni territorio ha il suo pezzo di musica ed è tangibile perché chi è che non si esalta chi è che non si esalta davanti alla musica brasiliana raccontare costa perché dedicare compassione la propria vita al racconto che non è fatto soltanto nel caso mio di scrittura su un pezzo di carta per un giornale è fatto soprattutto di televisione cioè di quello che tu stai facendo in questo momento bisognerebbe spiegare a chi ci sta ascoltando che cosa significa la gioia di poter fare bene un documentario di un'ora che è come un film di averlo nella testa di scriverlo su un abbozzo di sceneggiatura sono soltanto decenni in questo caso quando fai dei documentari ma quando ti trovi in amazzonia a girare con uno dei migliori operatori ma col producer tutto quello che vuoi in questo senso è indispensabile la realtà che devi avere è una tecnica è la tecnica di fare un documentario ognuno ha il tuo io avevo una mia è talmente emozionante è talmente ti prende talmente perché le idee ti vengono mentre dormi la notte mentre stai facendo il documentario in qualunque tipo del mondo stai vabbè il finale dell'ultimo documentario che ho fatto su Cartagena dedicato a Gazzia Marquez che stava morendo che si chiama La perda del Caribe prodotto dal TG1 della Rai lo trovate su Youtube mi è venuta mentre stavo dormendo a Cartagena e non sapevo come finire ancora prima di cominciare il montaggio a Roma quindi capisci che cosa significa significa girare sapendo che cosa ti serve anche il non ti serve perché più ciò è materiale meglio è ma senza sprecare e questo e questo e questo inficia anche la musica devi sapere anche che tipo di musica metterci solo per il finale che io ho fatto per la mia perda del Caribe ho scovato nella casa di un poeta cartaghenero collezionista di dischi un 33 giri vecchio di una vita con un bolero del 1937 che è la fine del biodocumentario che avevo già immaginato non sembra C. Marquez perché era malato in Messico che però poi dopo è venuto a vederlo ma io non c'ero e si è perso a piangere mi sono inventato la mia produzione aveva un marito aveva già bell'uomo però geloso come tutti gli uomini di cartaghenero sono gelosissimi soprattutto di noi italiani ma poi io dicevo ogni tanto arrivava con gli occhi gonfi ma che è quello non ci credi poi ti conoscono qua perché io sono stato tanti anni ma gli hai detto che sono invecchiato nel frattempo no ma quelli sono allora ho detto sai non ti ho idea lo scritturo perché io devo girare il finale allora tuo marito me lo porti domani mattina lo pago e gli dico quello che deve fare deve fare Cassia Marquez mi deve portare un pantalone nero una camicia bianca un bastone di bambù e un cappello di Panama se state il predissore del docufiction se lo vedi di spalle cosa che io ho filmato basta andare a vedere il documentario lui che sale su una carrozzella e che ripercorre tutti i viali della vecchia cartaghena con una mia voce che dice aveva ragione Gabo Marquez quando scrive nel suo ultimo libro dedicato a cartaghena viverla per raccontarla cartaghena per raccontarla bisogna viverla e si vede lui che arriva in questo grande palazzo si siede alla schivania con l'ombra del patio e che sta scrivendo la musica del bolero del 1937 sale e questo è il finale ma tutto questo ce l'avevo qui insomma io dico sempre ai ragazzi che vogliono fare cinema le cose le dovete vedere anche nel modo di raccontare tu devi vedere l'immagine se no che racconto è ecco questo ha caratterizzato buona parte della mia vita televisiva tu prima hai parlato di Sorrentino hai parlato di Martone hai parlato di Matteo Garrone di Garrone ma ma non soltanto tu non pensi che guadagnino guadagnino abbiamo però De Santis il cinema italiano ha bisogno forse di più bravi sceneggiatori no tu hai secato bravo 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 il cinema italiano ha bisogno di sceneggiatori di sceneggiatori ma la realtà esiste il premio Solinars che è stato inventato tanti anni fa proprio perché si sentiva questa necessità e ha fatto il suo percorso e lo continua a fare ma per una serie di ragioni che non riesco a capire che non ho neanche approfondito non se ne sente più parlare non se ne sente più parlare per quale motivo ora se c'è una cosa che serve come il pane al cinema sono gli sceneggiatori il miglior cinema italiano è stato fatto negli anni 50 60 70 80 da fiori di sceneggiatori insomma non voglio citare soltanto quelli che hanno riso celebre anche la cinematografia di Federico Fellini e beh noi abbiamo avuto sceneggiatori eccezionali che hanno che hanno caratterizzato la produzione di un cinema del dopoguerra chiamato allora neorealismo non so che ti devo dire ti faccio dei titoli Roma città aperta Sciuscia Ladi di biciclette e poi sono i film che hanno seguito gli autori di tutto il mondo ma non soltanto quelli i film di Antonioni i film di Francesco Rosi Rosi debuttava a Venezia con le mani sulla città facendo lavorare un attore internazionale di Hollywood come Rod Steiger che non è che accettava perché la paga era buona accettava perché era buona la sceneggiatura ora le sceneggiature sono fondamentali nella storia di un film lo dicono bene i grandi produttori italiani tra cui il nostro conterraneo Dino De Laurentiis che non faceva le cose così eppure l'avrebbero ammazzato quando voleva fare la grande guerra perché dicevano i censori che dovevano dare il visto sempre l'ingerenza dello Stato no no che è questa storia che Monicelli deve fare un film sulla grande guerra i ragazzi italiani che sono morti un milione e mezzo facciamo fare un film dal re della commedia e Dino di notte ho detto telefonare ad Andreotti che era l'ora ministro dice questo non mi vogliono dare il visto io le mando la sceneggiatura guardi un po' se questi qui se io non rendo omaggio quei due muoiono da eroi oltretutto e infatti Andreotti legge chiama via della ferratella a Roma ma che state a fare e così vinse il leone d'ora a Venezia ma tu te l'indico allora questo i migliori film di Alberto Sorgi sono filmati da Medei gli sceneggiatori sono fondamentali la categoria degli sceneggiatori ha reso grande il cinema di Hollywood anche durante il maccartismo lo sceleggiatore di 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 Trump di vacanze romane che non poteva lavorare per il maccartismo perché era accusato di essere comunista ci fu l'epoca in cui ad Hollywood mettevano da parte tutti quelli che in odore di comunismo hanno stronzato di quelle gigantesche e invece quello vinceva l'Oscar che gli hanno dovuto consigliare dopo quando è finito che sta stronzato del maccartismo no per dirti quanto l'influenza degli idioti della politica che vogliono comandare il mondo sono degli idioti ma allora vieni a fare tu l'amministratore sì forse lo farei meglio perché fare l'amministratore pubblico in una società pubblica come un intero paese è una responsabilità talmente grande che esige che tu dalla sera alla mattina stassi in qualche poltrona a mangiare panini e guarda ti va bene così sì o no e allora cambia mestiere è difficile fare è difficile infatti diamo diamo un consiglio ai giovani affinché anche la tua diciamo mano esperta come come giornalista anche come scrittore perché i documentari tu li hai dovuti scrivere diciamoci la verità non bisogna essere così tanto letterati per poter scrivere una sceneggiatura assolutamente no quindi diamo dei consigli ai giovani consiglio è dare retta alle proprie coscienze e ai propri sentimenti io dico sempre come diceva mio padre che non devo volerli cinema un cinema un film ti deve prendere o ti fa piangere o ti fa ridere ti deve prendere o ti fa paura se tu sei bloccato sulla sedia perché voi vedete che com'è la fine vuol dire che è ben scritto è ben fatto quindi la sceneggiatura deve essere il frutto di un cuore punzante che sente la storia che scrive non retorica perché il cancro di chi scrive anche me o anche oggi tendenzialmente è la retorica se fai un pezzo ti puoi capitare che diventi retorica no io ho scritto questo se il film più applaudito dalle critici e dal pubblico all'ottantesimo mostro del cinema di Venezia è stato finora povere creature del greco Latimos interpretato da Emma Stone già in odore di Coppa Wolfi sono già nella retorica io ero famoso per fare magari da Berlino ho seguito il festival di Berlino per 30 anni mi dicevano Tonino guarda io litigavo per le edizioni io volevo che i miei pezzi andassero sempre nelle edizioni principali allora mi dicevo no ma per le 20 siamo pieni non me ne frega niente è possibile che non ho neanche ma non so ti possiamo dare 50 secondi dipendo al festival del cinema di Berlino si è parlato oltre che di film anche di pace e di guerra sottoscritta da tanti personaggi del mondo dello spettacolo che attraverso l'Unicef hanno partecipato ad uno spettacolare galà di beneficenza non può esistere un mondo costruito sulle guerre senza bambini non può sopravvivere un mondo senza pace con le guerre lo hanno detto al nostro microfono George Bruni e Dustin Hoffman anche a Cartagena anche a Giponi era così io una mattina alle 7 chiamavo il direttore a casa non il caporedatore chiamavo il direttore a casa dicevo senti io so questo questo e questo quando vai in riunione di redazione adesso chiamerò anche il caporedatore se no si incazzano però sappi che tu devi dire sì perché se no e io piazzavo i pezzi così i miei pezzi a Giponi sono stati sempre così 13-20 13-20 13-20 ecco è la grande forza che hai dato a quel festival senti qual è l'intervista tu hai intervistato migliaia di personaggi importanti direi di sì e soprattutto cinematografici qual è l'intervista che ti è rimasta dopo tanti anni sono tante però ce n'è una che particolarmente ti ha una delle interviste che mi hanno sempre che ce l'ho nel cuore è quella un'intervista molto particolare con Marcello Mastroianni già malato di cancro che cercava disperatamente di venire a Cannes per lanciare la figlia che oggi è un'attrice affermata la figlia che ha avuto da Catherine Deneuve io ho avuto un'amicizia molto profonda con Marcello perché era una delle mie compagne che non c'è più neanche lei che è stata anche una maestra di vita per me è stata Mimina Quirico nota giornalista del gruppo Corriere della Sera redattore capo di Amica a Roma grande amica di Oriana Fallaci insomma lo stile era quello la quale ha saputo limare anche come vogliamo chiamarlo questo intuito giornalistico mio e quindi mi ha presentato è stata molto importante in quel periodo della mia vita a Roma dove io sono arrivato non come giornalista ma come direttore commerciale di un'importante società cinematografica se per questo sono stato anche direttore generale nel North Carolina a Wilmington della North Carolina Film Corporation la prima grande società che è Dino De Laurentiis nel 72 trasferendosi definitivamente in America fondò la sua società di produzione e chi è stato il primo direttore generale? io Tonino Pinto Tonino a Wilmington North Carolina e mi ricordo la conferenza stampa di Dino quando la facemmo a Giffone mi ricordi? quando io? e chi l'ha portato a Giffone? tu l'hai portato a Giffone e chi l'andò a prendere la mattina alle 6 con una barca che partiva dal porto con il mio assistente Pasquale Campopiano ragazzino che io ho presi grazie a Gubitosi devo dire che lo trovò perché avevo bisogno di un aiuto se non ce la facevo che ha imparato tutte le tecniche mie per fare i montaggi Pasquale Campopiano che saluto Pasquale oggi guarda che c'è la vita non è soltanto un grande giornalista è un romanziere ha scritto parecchi libri ed è il responsabile dell'ufficio comunicazione del Milan con uno stipendio stratosferico da top manager una moglie deliziosa e da poco tempo anche papà una bellissima bambina e gli facciamo gli auguri allora senti e invece in questi 60 anni di carriera tu continui a lavorare secondo te mettiti nei panni miei come fai a stare senza avendo il Padre Eterno vicino nel senso che siamo sempre là diceva mio grande amico come Mario Manicelli e anche Carlo Rizzani che si sono entrambi suicidati adesso non voglio fare il patetico voglio essere concreto però secondo te uno come te uno come me uno a 90 anni tra poco così non li dimostri devo essere autonomo ma se cominci a farti la pipì addosso e la pupù pure oppure non sei più autonomo che senso ha sì l'affetto e ne avrei tantissimo vicino ma che senso ha e loro quando sono arrivati in quelle condizioni uno si è buttato dal sesto piano del del gemelli e l'altro dall'ottavo piano del suo attico perché avevano capito uno a 94 l'altro a 95 e dovevano dire soltanto grazie a Padre Eterno che le aveva fatti cantare cosa che farò anch'io per cui lungi da me l'idea di farlo ma voglio stare così io voglio alzare la mattina alle 6 cosa che faccio tutti i giorni essere pronto alle 7 7 e mezza come se andassi a vedere un film come faccio qui ed essere pronto a girare a muovermi a fare ad intervistare a costruire a parlare ad incontrarmi fino alla sera alle 11 mezzanotte anche d'inverno alle volte anche fino alle 2 del mattino in questo sono fortunato perché ho una marea di amici ma annoverò anche te assolutamente perché insieme dobbiamo fare questa cosa la faremo no voglio dirti un'ultima cosa su Venezia Venezia quest'anno festeggia 80 anni dovevo fare un plauso ad Alberto Barbera che è il direttore artistico forse per l'ultimo anno a fine mandato io spero che glielo rinnovino ho i miei dubbi però le cose in Italia non è che favoriscono la qualità in generale anzi se uno davanti a uno bravo potesse acida acida è come con il Napoli cioè il Napoli io noto le cronache delle sportive vorrei fare un appello ai giornalisti che scrivono di calcio amici colleghi non ci conosciamo e lo dico con tutto il rispetto di questo mondo perché immagino che voi siate veramente il gota dell'informazione giornalistica sportiva calcistica in modo particolare a me qualcuno mi deve spiegare perché c'è questa specie di accredito sarà perché sono del mestiere ma quando scrivete soprattutto al nord scrivete i vostri pezzi firme prestigiose peraltro e parlate del Napoli c'è sempre una condiscendenza come se ci fosse una forzatura che vi dà fastidio vi dovete mettere l'anima in pace perché il Napoli è una grande squadra lo sarà sempre senti i giovani diamo un consiglio è cambiato tanto con le piattaforme streaming la mancanza degli spettatori nelle sale Tonino secondo me questo provoca anche una mancanza di cultura del cinema o sbaglio? no non sbaglio la realtà è che viviamo uno stato un momento confusionare la globalizzazione diceva Oliver Stone quando richiesi lui che era stato a Cuba è stato insieme con Gianni Minà quello che è stato più a contatto nel tempo è stato due mesi a contatto con Fidel Castro Minà subito dopo come durata io arrivo come terzo però mi ricordo quello che mi diceva Castro diceva abbiamo insegnato abbiamo messo nel bagaglio culturale del popolo cubano la convinzione di essere orgogliosi di essere un popolo indipendente Oliver Stone io gli chiesi secondo te che succederà alla morte di Fidel Castro e lui mi disse resisterà Cuba alla globalizzazione resisterà all'invasione di quell'affare lì che c'hai davanti telefonino macchina da presa quello che vuoi tu resisterà ad internet resisterà alla meccanizzazione mentale o intelligenza artificiale mettila come te pare questo è la scommessa per quel popolo che ha sposato il concetto di rivoluzione di libertà che dura ancora oggi dopo oltre mezzo secolo la partita secondo me è già persa nel mondo intendo dire perché come dicevi tu giustamente l'avvento della trasformazione dell'usufrutto cinematografico attraverso la rete ha fatto nascere delle società biliardarie che non sanno fare cinema però Netflix Amazon si sono preoccupati con il loro top manager del cacchio di riempire le cantine vuote di qualunque tipo di titolo tant'è che chiunque abbia un abbonamento come ce l'ho io perdi circa 40 minuti se non 50 poi ti scocci e spegni per trovare un film decente in mezzo a quella caterva dei titoli inutili che cosa ti dice questo però ti dice che l'80% della produzione non vale un cacchio che è fatto così per riempire che è il pericolo che sta vivendo il cinema italiano non voglio accusare nessuno sono tutti belli ma onestamente no di Paolo Sorrentino ce n'è uno di Battio Garrone ce n'è uno ma anche di questi giovani autori che vanno per la maggiore non è vero che non abbiamo abbiamo ma è che noi viviamo un momento di stanca sotto un prefetto creativo che è dovuto al meccanismo veloce pur di riempire i contenitori e questo non porta alla qualità perché alla base ci deve essere un discorso di sceneggiature è vero che anche il cinema americano vive una crisi esistenziale tant'è che si butta oggi a fare dei blockbuster che costano tantissimo basato tutto su effetti speciali questo non va certamente a braccetto con la qualità però è sempre un'industria quella americana Hollywood è un'industria seconda soltanto della General Motors e non è un'industria cinematografica assistita dallo Stato non riceve una linea dallo Stato gli dà i soldi allo Stato con le sue tasse contrariamente come funziona in Italia e come funziona anche in Francia in buoni paesi europei ma non tanto come in Italia allora in Italia noi abbiamo delle discrepanze pazzesche un mio collega che si chiama Fabio Masi e lavora per Blob sta realizzando un documentario che mette in luce la morte attuale in Italia sul territorio nazionale di 500 500 teatri abbandonati dove ci stanno i topi dentro ma parliamo di teatri come l'Eliseo a Roma come il Valle di un certo spessore di conto attento attento a quello che sto a capire ci sono 14.000 festival del cinema ci sono festival dappertutto non è Gifoni non è Venezia non è Taormina e quindi non è non è Torino ecco sì Torino i giovani vogliamo salvare il Bifest di Bari 14.000 ci sono solo in Puglia ce ne sono 8 solo in Puglia Vieste Osuniv oggi la mania che è venuta fuori attraverso gli assessori sedicenti che si sentono tanto avanti del cinema non so che cazzo fa e fanno e fanno e fanno lo festival ma quei soldi di chi? di contribuente nostra non ti sembra un po' esagerato eh? assolutamente allora chi lo fa questo? un discorso politico serio come amministrazione chi lo fa? è possibile che siamo tutti quanti diventati maniaci di cinema avessimo fatto tutto quanto i registri e dov'è la qualità? qua c'è la ragione Maria Martone quando dice ma le scuole di cinema dove stanno? ci sono dovremmo fare una selezione lo dice anche Giancarlo Giannini che ha avuto un quadro il problema è che ma allora lei come fa a dire che mio figlio che vuole fare il regista non lo può fare il regista perché se non ce l'ha le qualità se ne deve andare è giusto e quantomeno io spero che non arrivi un assessore che ha la mania anche lui di fare un festival del cinema ma si può fare un festival del cinema in un paesino di 800 abitanti insomma ho la vaga impressione le loro generazioni a me che mi portano io non devo dimostrare niente a nessuno ho la mia età tra poco ci sono 90 anni per cui che devo fare più ma almeno ho il diritto di parlare non devo conquistare nessun posto io quello che ho fatto ho fatto se vi da fastidio peggio per voi ma la mia voce è libera mi dispiace io non sono un leccaculo e non lo sarò mai sono entrato in Rai con una causa di lavoro io non mi ha raccomandato nessun partito politico e la Rai è partitocratica io non sono entrato con una raccomandazione partitocratica ho vinto una causa dopo dieci anni in Cassazione sì signore io vorrei chiudere così volevo ringraziarti però ringraziare te i tuoi ascoltatori per la pazienza che hanno avuto e dargli appuntamento se avrò vita all'estate prossima a venire da voi per farvi vedere alcuni rimedi o commentari ciao ciao grazie Tonino ciao